GAME YEEEAAA Holy shit Già che sei in ginocchio Non è che ti scappa un soffocone Potremmo usare la mia minchia ma non è abbastanza lunga E la tua? La mia me la arrotolo intorno alla gamba per dormire Se ne ho bagnato mi sveglio con la gamba in cancrena Stritolata come un boh The shits Allora, lascio ascoltarla I want the shits on my table La conosci quella dell'uomo italiano va a Malta? No An Italian man goes in to a trip to Malta Goes into a hotel and starts to eat dinner But there is no fork So he calls the waiter and says There's no fork What? I wanna fuck What do you mean I wanna fuck? I wanna fuck There's no fork I wanna fuck on my table You can't fuck on the table you piece of shit Ok Mamma mia Poi va nella sua camera d'hotel Vede che non ci sono le lenzuole Hello I want There's no shit What? I want to shit I want the shit on my bed You cannot shit on the bed you stupid son of a bitch Cosa dobbiamo fare scusa? Non ho capito, ero impegnato a dire cazzate Vero? Hey guard Can I ask you something? Non ho capito Scusa volevo solamente fare delle conversazioni Woah 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 What are you doing in me? Get away from there Go on First time I've seen someone smile in here Yeah Because I'll be a free man this week That's great E' morto quel tipo E' morto subito A voglia Ma dai 15 anni E' il più coglione della cumpa eh E' sicuro che tu sarai una vita molto più migliore Beh, non ho planito di finire qui E' sicuro Non ho planito di finire qui E' sicuro E' sicuro che tu sarai una frase che viene detta molto spesso Abbastanza Wey Damn Che problemi ha? Che problemi ha? Ah ma dai Swans Sway Ok c'è un posto dove possiamo nasconderci So How's the laundry business? What business? I ain't doing any business Where's your sense of humor man? Hey, you're trying to be smart with me? Hey Get your own car Bye Hey relax Why are you so pumped up? Yeah man, sorry It's just uh This fucking asshole got me in a bad mood Oh, this guy? Yeah It's nothing personal, you know? Yeah, yeah, sure Hey man Mi servirebbe un carrello Guardi Uh, sure Name and number please Vincent Moretti 3465 Vincent No, there's no Vincent here So No, there's no Vincent here I'm sorry Corrompo You look like you're a smoking kind of guy Well, I guess I probably am You know I got a good pack right here I think it's got your name on it Ah Thank you Why don't you go and treat yourself I might just do that Yeah, com'è facile la vita in prigione For legal reasons, that's a joke Damn, it smells like shit in here Shh, keep your voice down Sure But it smells really bad, man Really bad Just be quiet Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah It smells like smell, man Shut up Ha, fa' un culo Ops, scusa Gabbo Bastardo Mica, proprio come nella vita vera Gianandrea Come sia Come sia Vedi se posso prendere altre Altre lenzuola Sì Tieni, mangia Mostro del Mostro del bidet Om nom 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 Tiè Hurry, put in more sheets Tiè, tutti i lenzuoli che vuoi Ok, siamo tutti pronti Coveri tu Oh, ok Ok, vediamo cosa abbiamo qui Ok, sembra bene Fuori Di me Gabbo Ok Tora di riuscire quella guardia ora Ah, devo picchiare la guardia Io Cosa ti faccio? Prendi la madre Ma c'è un problema con la machine All'interno Oh no, c'è un problema con la machine Oh, sì? Cosa è il problema? È, uh... È bruata Non lo so È bruata Non sembra bruata Vabbè, te la rompo io, ho capito, va? Prendi quel ferro tastiere, buttacelo dentro. Dentro la guardia o dentro al... Te. Ne metto un altro, che è meglio abbondare. Eh, ma Vincent al momento... Ah, no, non posso, ok. Ne basta uno. Ops. Signora guardia. A vederci. Devo rubare le chiavi. Sta clippando. Oh no. Gabo, la sua testa clippa attraverso la macchina. Ah, non è a mia testa. Ma io non so cosa devo fare, sta clippando un sacco sto signore. Ma che lenzuola devo rubare, scusa io? Quelle che ho già preso, devi aspettare me. Solo che io non so che cosa fare per distrarre ste guardie. Io sto spargendolo in suolo ovunque, Gianandrea. Sento bellissimo. It's locked. Eh, ma... Ah, aspetta, devo venire a aperti io. Ah, brutto ed efficiente, muoviti. Cretaino. Faccio che c'è la guardia. Figa no? Figa no? Ma perché hai sbattuto il lenzuolo ovunque? Guarda che... Non puoi mi metterle via. Cret... Cretino! Guardami un po' in questa posizione per un po'. Sì, Max Anime, ho dormito... Sono una statua. Tieni lo sto cazzo di tasto, però. Io lo sto mantenendo. Sì, tu che devi prendere lenzuola. Cretino. Ah... Eh no? Sì, sì, sono venuto. Aspetta, devo prenderle un po' in giro per la stanza. Intericente. Gabbo scappa il cagotto, così dice Pollina Cetilene. Oh no. Oh no. Adesso facciamoci. Infatti le lenzuolo sono per fare un fortino dove possiamo farci i bacini senza che gli altri detenuti ci prendano in giro. Oh. Per poi portare la cultura dell'omosessualità e della mascolinità non tossica all'interno della prigione. A way out non è una way out dalla prigione. A way out è una way out of the closet. Boom. Andremo alla ricerca del pen. Non è un fan di height. Non davvero. No. Ok. Ok. Oh. Oops. 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 Ma guarda... Scendi un altro po' e risali. Mi sembra proprio che lo cerchi vai. Sali su. Sali. Sali. Ancora. Basta. Vieni giù. Siediti sulla mia testa. Io faccio un giro. Cretino di qua. Sì scusa. Stavo guardando le guardie e mi stavo maneggiando uno spippacchione. Ah. Alza alza. Alzalo. Ti vedi il culo. Alzalo. Stai clippando però. Ma che belle sedie. Puoi vedere? Non lo so. Due tovagli. Un vaso di fiori. Che belle cadreghe. C'è una torcia Gabbo. Oh Gianandrea. Dai muoviti. Che fai? Gianandrea. Ti intimidisco. Finisce in tragedia. Ti intimidisco con questa mia posizione di potere. Ti intimidisco con la mia. La mia poscente minchia. Come scusa? La mia poscente minchia. La mia poscente padrenga. La mia padella oblunga. Io l'ho vista la luce. C'è la torcia di lagera Andrea. Eh l'avevo vista. Ma l'ho vista prima io. Ma tu sei il tuo personaggio un cretino. Ma non è così buio. Si vede tutto. Dice? Si vuole file? Che schifo. Adesso puzziamo di merda. Oltre a... Mira. Mi stava cercando signor Bond. Questo era lo sciacquone. Ti dà fastidio se faccio così, Gabbo? Cazzo è un rave. Sei scivolato tu. Che cazzo vuoi dalla vita mia? Cosa stai facendo? Tadà! Abbiamo appena svegliato il mostro del lago. Beh. Questo era il verso del mostro del lago. Guarda, lo sospettavo. E' questo? Arrivo. Dammi la torcia, va, che adesso diventa il mio rave. Quanta gente c'è che ci guarda? Ehm, 170 persone. Bravi. Vai, vai. Eh, che devo fa? Di qua? F***. F***. Guarda che in realtà sei tu che devi fare cose. Amore. Eh, fa tutto il mouse, bro. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Ok, io me ne vado, ciao. E allora ciao! si però pure mani di merda è soggio stanni doppio alo però però dimmi credi di essere più forte di una porta d'acciaio sono più forti di mille uomini tu ma se ti arrabbi poi mostri i muscoli chiaramente sì lo sai chi mi fermerà è l'incredibile work per caso ah ah voi siete persone molto speciali tantissimo lazzaro e se perché perché la forza di mille uomini e più si arrabbia più posta i muscoli che capo usa l'attacco torcia magica l'incredibile baciami stupido ma ti sto in mezzo alle balle qua è la posizione da bacio questa dai su per favore si sto provando capo arrivo arrivo 3 2 1 via baciami gioco di squadra 3 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 15 fai. pesante oma lo sai che ho cambiato telefono davvero ho già ah no oggi e con cosa con un samsung a 50 a 50 euro samsung sponsorizzami oh te la premo sicuro la schiena questi qua hanno visto troppe volte le follie dell'imperatore è il film più richiesto in prigione dai capo abbiamo visto troppo ah no ah no aspetta aspetta vai tu ok al mio 3 1 2 ho detto al mio 3 è difficile scusa scusa colpa mia colpa mia colpa mia allora pronto? adesso e sai che arriva leggermente in ritardo sì sì vai adesso tu da solo ok alla prossima di nuovo ancora ancora sono un cretino anch'io vai vai da solo dalla prossima ok qua vai no aspetta ok pronto? da adesso 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 sono un cretino pronto? adesso eh ma allora ci prendi gusto eh vai vai ti aspetto ti aspetto pronto? vai vai sono un cretino perché ti dico vai e vado io pronto? vai 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 oh 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 eccolo è da clippare per l'audio quello mai vai vai fatti che con il delay the hangout è difficile è difficile è difficilissimo c'è solo un posto che puoi farlo, il workshop si, dammit e poi? non ciascuno di trucchi sui occhi non so c***o ah ok quindi noi siamo arrivati fin qua abbiamo visto che ci serve una cave inglese quindi mi sa che adesso torniamo in cella ok va bene questo lo posso capire e ci riproviamo domani c***o grande così come la usi tu la sega gianandrea ehi la tanti stavo piallando la minchia però aaaah ma se c'avevi una pialla eh facevi prima ah certo dove era? era lo zoo giusto? se c'avevo una pialla la facevo prima era umida è sapida è comoda è la carta è la carta vetro cosa dobbiamo fare gianandrea? sto battendo un chiodo che dentro da un quarto d'ora ahahahah io sto piallando lo stesso punto da vetti minuti working siamo i men at work come Michael quando vedevamo la ragazza del nord va in calabria acting acting bella sega bella sega guarda che ti usi questo vedo che come segui le gambe tu io lo so perchè stai segando le gambe dovresti vedere anche le altre parti del corpo io lo so perchè stai segando quel pezzo di legno perchè ti esce fuori una pseudo tetta con cappizzolone di legno che tette hai visto tu gianandrea? beh se prendi una tetta cioè se prendi quel coso lo tagli da dove hai la mano fino a dove stai già segando poi te la porti in cella e fai dei di uno contro uno fai di legno oh siamo in prigione ti devi accontentare si vabbè abbiamo capito che sta sega non taglia una sega vabbè 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 ciao me ne vado eh perchè qualsiasi cosa diciamo sembra quella sbagliata ah qui c'è ma cosa vuoi essere uscito dai guerrieri della notte ok noi non possiamo uscire con gli strumenti perchè c'è la il metal detector ma la chiave inglese ce l'hai tu adesso? no 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 ma si stai guardando fuori ah vieni Gino dove sono io arrivo prendi la chiave inglese dietro di lui no tranquilli tranquilli ragazzi hey hey oh tutto bene ok ciao oh metti la mano qua tipo nice arrivo 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 subito oh scusa ho un cazzo degli attacchi come stai Gabbo niente che spiego che fai che fai che fai che fai un po' trapani sempre piaciuto come trapani 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 è una città lo sai si si trapani è una buooo non ti tanto gliccio male no devi solo muovere il mouse a caso fa tutto lui no da me guarda che stai stai sdittando manco fossi sui pattini ok ok allora vai a mettere la chiave inglese lì dentro lì dentro dove qui aspetta che mi chino ah 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 qui dentro eh però levati ma levati tu è tirata fuori dal ah mi sa che devi uscire eh no devi andare esatto oltre questo ok va bene venire di qua sposta è un buco però non è il mio buco mi dispiace allora non è abbastanza utile però un utilizzo lo potremmo usare voilà voilà arrivo arrivo gabbo buooo scusa salve guardia ah così ma non chiudermi fuori ha un fame ma siamo tutti a parte a te di gabbo ah ah c'erano diversi modi per uscire ma c'è un solo modo per entrare nel mio cuore gara dei pantaloni gabbo no gabbo devi prendermi prima ah 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 preso tocca a te uh giochiamo a capparella nella capparella uh non mi avrai mai dai gabbo oh no preso la perquisa non c'è la perquisa aspetta vediamo se c'è un altro modo per eh di qua c'è prova di idiota tu passa e io ti ho clippato attraverso i pantaloni ma non hai bisogno di clippare ma non hai bisogno di clippare avanti toccami tutto bel maschio adoro tutta questa gay energia eh sasha buongustaia oh il vecchio il nuovo guardiano il vecchio manicomio era un manicomio uuuu uuuu e più punizioni più dure per i criminali più tosti vai bel bibello posso fargliene posso soffiare sul vetro sai tipo quando si viene la bocca gigante si 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 c'è le perracchie sul vetro e poi sul pancino perchè tu sei più veloce di me che sono più bello oh oh esci siete proprio i più furbi del reame eh buaa buaa che ti inventi? spacciano droga si si andate andate oh oh gabo di su che c'è? eh c'è io vorrei andare in cella ma c'è un uomo brutto di fronte alla mia cella adesso vengo a mettergli le dita nel naso uuuu scusa c'ho questi attacchi un po' brutti let's go let's go yeah dude let's fucking go dude let's fucking go dude eh? oh oh mi stanno facendo la perquisa passa arriva arriva non c'è 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 indeccesso indeccesso dietro al cesso o dietro al cesso molto più facile adesso ti scoprano mi scoprano mi scoprano si volevo dire ti scoprano ma mi sembrava scorretto ti pause si ah si Kimi Kimi o Shimi o o chi mai o Chaimi o Chaimi o Chaimai ma c'hai mai provato gaboa c'è tipo oh no sto con ele page c'è andato così lungo che le è clippato attraverso la guancia ciao 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 linda ho un plan per uscire qui bene cosa posso fare non ti preoccupi ho qualcuno che mi ai 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 qui chi è chi è il nome è Vincent sembra legato è giusto è giusto diciamo abbiamo pensato che abbiamo pensato che abbiamo pensato ma questo non c'è è giusto che cosa perché non lo so ancora ma ci vedo ok ok è un mangiammerda eh guarda c'è Norman Reedus lì dietro è vero death stranding si pronuncia cimi ok va bene ok cimi c'è non c'è ma non c'è Ma poi io scusa Cosa ti fa le pernacchie La guardi E' pure incinta o è solo grassa Oh Ah cosi? Cosi? Minchia che porcata che t'ha fatto dai Il mio bimbo My baby Bravo bravo mangia la mela Babbeus Ancora la tengo per dopo Le banane non bastano più Pensavo stessero per baciare Ah cosi? Mentre piove Perché è più drammatico Certo Ho bisogno che tu metta un attimo in pausa Perché devo scappare in bagno Una roba di 15 secondi Riesci? Però Gabbo tu lo sai che se fai la 2 in 15 secondi Vuoi dire che Hai dei problemi Tutto il bagno Sarà da cambiare Sanitarizzare a livello Proprio No no dai solo numero 1 Solo numero 1 Ok Puoi premere ESC per mettere in pausa Non vai in pausa Dobbiamo aspettare un momento di un gioco Aspetta provo a premere ESC Quello premio A me viene il menù Però non metto in pausa Non com'è Aspettiamo vai Arrivo Oh vai Passami la chiave inglese Merda No Va bene Ma tutto me la dovrei passare Lo sapevo Cosa sapevi? Pensavo che rimanessi lì tipo mezz'ora a guardarmi Pronto? Che professionali che siamo Vero? Mega laggone Devastante Lo prendo io Lo porto io Lo porto io lo porto Voleva andare da qualche parte? Già Andrea Quando vuoi Gianna Quando vuoi Stronzo Sto subisci Maledetto cane bau Che non ti smetti Ciao Gabbo Oh no Sono stato taggito C'è ancora una cosa più bella Che quando rito si vede sul mouse Ce la fai Gabbo? Oh che cosa è successo? Non lo so Dai Ti libero Ho bloccato lo schermo Ok Ci sono Ok Tutto a posto Hai clipato malissimo Attraverso la scatola C'hai poteri C'hai poteri Vai vieni Oh si Oh Wow One more Grazie Santiago Grazie per il subscribe Il quarto mese di FIA Quando uno C'ha gli amici coglioni Si è girato Dall'altra parte Stupido Ciao Santiago Bentornato Mi sei clipato La faccia attraverso il culo Ciao Allora Tanto che Stai qua Siete due cani E' verissimo Baw Le possiamo uccidere Ste guardie Non lo so Vabbè No Guarda che secondo me Si Come si C'era un po' Le coglioni Oh S**t S**t Dobbiamo Bustare la porta Ok Sì Un Due S**t S**t Ah Dobbiamo Procchitare di un culmine Ok Ok S**t Quindi mi sa che Poco dopo la luce Lo facciamo Vai S**t 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 Un po' Più S**t Eh E' S**t Come si Bravo Capito Mi si Mi è Boruto Madonna mia Che Che Precisione Che abbiamo S**t Si Santiago è sempre questo S**t 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 Allora lo lasciamo qua cos'è? Positi beggarlo? Dimmi la mano, è difficile di salire su! Ehi, hurry up! Si inventa a urlare! Mi sei esigente! Ma zio Rob pure c'è! Sì, c'è forse Rob! Gabbo? Dimmi! Oh yeah! Darkness and silence... Rompi! La domanda, il qu'è cosa? I Bai! I cazzo! Posso prima io? I libri! I giradischi che volevo! Un giradischio wewe! Wewe, aspetta! Possiamo girare un mappamondo? Cokee ne è? Africa? C'è un papaghello Ho liberato un papaghello, Gabbo Ma la smetti, Gabbo Hai liberato qualcuno dalla prigionia Mi stavi puntando la pistola Gianandrea Ho sperato qualcosa Dove sei andato? Ah, mi sa dobbiamo andare di qua bro Posso vedere se c'è qualcosa di nascosto C'è un telefono qua che si può utilizzare Ah, hai staccato il filo, bravo, vieni Vieni Gabbo Non vi può Di sotto Comunque c'è qualcosa Dove? Di qua Forse possiamo scendere ancora No Sì ma no Sì ma no, let's go Ah ok, le guardie sono là Ah, vieni Andiamo ad accopparle insieme Gli facciamo la festa Gli facciamo la pistaccia Gli facciamo Puglia Calabria Io a sinistra e a destra Pronto? Uno, due, tre Let's go C'è una sigaretta volante qua Fumala, fumala Mangiala Ok, raggiungi la torre Gabbo Ma di Pisa Dobbiamo evitare il fero Ma di qua Occhio eh Però ma non hai ancora capito Che questa non è un Gioco cooperativo Ma una gara Chi esce prima di prigione Muoviti Porca Che cazzo fa quei rivaleggiati Sono un ninja Dai, picchialo Aspetto Vai, picchialo Ciao, lottista Bentornato Spento We can use that wire We can use it 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 Quale wire? Sembra si investe il stallone Get to the job Che è quello di Schwarzenegger Uh, le fk panica Boh, la cosa più Consicura della terra Si, tra l'altro che reggono Chiaramente il peso Di un uomo adulto Un uomo sovrappeso adulto E un uomo dal naso sovrappeso adulto No, non male, mi hai clippato Wee Appena me lo fa fare Clippami tutto Non ti è dato che scendo Clippami tutto Ah, non mi hai clippato tutto Oh, oh Ma solo perché hanno sentito più... Ah, ecco, c'è un'altra torre Arrivo, eh Se ti muovi mi fa il piacere Mi stanno sparando addosso Eh, ci sto provando Ci sto provando Ma tu hai le braccia Di un bambino di sei anni Oh, mi stanno sparando addosso Fai tu Ma non è vero Ma cosa stai dicendo Sono solo insulti Non sono Colpi di pistola Come un colpo di pistola Cori 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 che corri benissimo bro voglio cuore a così è stato troppo difficile hai sentito fuori? si evidentemente eh, eh, dai che segno sei? no oh, funziona, che cazzo ti lamenti? tra l'altro eh, sinistra sì, sembra che abbiamo davvero sbagliato strada abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto abbiamo fatto essere attenti non andiamo in avevo dato il vero sbagliato strada arrivo che cazzo sei? sono qua, sono qua, arrivo è mezz'ora che ti aspetto sì, ma stai buono no, non sto buono un cazzo io com'è? ma, un bel muro ah, siediti, vai smettila vai, mi fa hecha soni, via oh, siediti, cazzi, paesi che tembili ci devi guardare sì molto tempo, via, a destra dai, questo è inscritto, via we are in the bushes, we are in the bushes ma brunas, we are in the bushes we are in the bushes siamo in due nello stesso bush appena si gira attaccalo io vado a sinistra quanti sono ok uno fuori mi ha un po' visto ma perchè non mi fa saltare? ah certo perchè non è assassin's creed ecco perchè non mi fa saltare giù di qua ne stecco uno via io ne ho due di qua se lo prendi alle spalle lo ripi dietro ah ma stiamo guardando gli stessi, tu dove sei? io sono della parte opposta alla tua sono più avanti di te aspetta aspetta sto prendendo io quello lì si 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 lo vado a prend... ah ok niente a posto Ah questo tutta c'era un'altro contro ah ah ok figo fico io vado a quello a sinistra no 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 invece Io ho più kills もう yeah andrea psycho killer lo chiederemo psycho killer a me piace un sacco cazzo la trovo noiosissima vieni qua ci sono due arrivo io prendo quello a sinistra ok prendo quello a destra pronto quando ti do passare vado vai ma non è vero ma l'avevo appena cliccato ma l'avevo appena cliccato o no sinistra to destra pronto 1 2 3 via ma dobbiamo essere più sincronizzate se prendiamo piano e poi facciamo 1 2 3 lo prendiamo 1 2 3 vai cosi a sinistra ce ne son tipo 10.000 oh no ce n'è uno clippato no ma con quali baffi questo e poi con quale faccia me lo stai dicendo no ma più che altro era clippato attraverso il pavimento non potevo colpirlo il mio quando gli stecca gli da una papagna sulle orecchie cazzo e me il bond a credo che dobbiamo salire per due parti diverse al mio 3 lo attacchiamo aspetta si si ti vedo ti vedo al mio 3 1 2 3 vai grandissimi al primo colpo questa volta non siamo idioti come professionisti non siamo idioti dici che sei un professionista del gusto si lo supera oppa oppa oh no eh ma mi sa che il tuo personaggio è più veloce del mio il mio è un po' sovrappeso sbam c'è un signor in giacca gialla ah god damn it hey ok let's go that way sembra un'ottima idea sembra un'ottima idea che cosa vuoi? ehm sotto il ponte io si direi anch'io e dai esu quindi aspetta adesso io soffro di vertigini? tu hai sempre sofferto di vertigini ok ho paura cioè mi sarebbe figo se il mio personaggio avesse tipo qualche problema a muoversi adesso ma è possibile che ci sia vabbè ottimo non si guarda Leo oppa facciamo che ti aspetto qua oppa bravo capo e lo supera no bastardo hai premuto e più velocemente di me e beh si i odio con le vertigini si è vero a te ti si distorce la camera figo così mi piace ah l'elicottero ah l'elicottero ah l'elicottero ah l'elicottero ok ok ok? era una chiamata cosa se usiamo queste barri per scendere? ah ninja warrior sto signore eh american ninja warrior italian american ninja warrior torna indietro va babeus si vabbè potevi fare anche con le mani eh salta ho cercato di togliere la mano poco prima ma passando dai mezzi dei capelli dopo tipo eiii aiiiiiii ma se è un vero uomo torna indietro oh shit vedi quella riduce? io posso farlo si? pensi che potrebbero venire così e scappare a parte l'altra parte? no, non credo sia, è una davvero grande droga e le correnti e la vettura è molto forte Che gioco incredibile Dammi la mano Dammi la manona Guardali Oh Fine Fine Io c'ho una scelta Il vero gabbo ti beggerebbe le guardie Si è vero ma non c'è il comando per ti beggare Ma cosa sono? Siamo nella Pennsylvania dove i lucchetti sono la cosa più debba Ti faccia passare I lucchetti sono la cosa più fragile del mondo Infatti cioccolato Cioccolato fuso Cimi non sono Non ho cambiato ok Non hanno proprio messo il comando per ti beggare I got to feel like somebody's watching me And I have no privacy Let's not take any chance with that cop There must be another way past Ah no 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 vengo No no vengo a spaccargli il culo Vieni 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 Spacchiamogli il culo Arrivo I got to feel like somebody's watching me Merda Non ho capito ma cosa siamo di hickling Stop You criminal scum No Eh this Aspetta aspetta devo fare il giro dall'altra parte Arrivo arrivo Eh non ce la fai bro Ah se sta lì No se sta riempiendo la freccia Take it easy now You don't seem like a guy who shoots an old man in the back You're Drop it asshole Eh faccia di merda Sti baffi Oh no i doggo Non posso fare male un cane Scappa dai doggo scappo scappa dai doggo Eh dio son cattivi questi eh Vabbè Ma è scivolato su una merda scusa Si è appena fermato Non ti sta bene un cazzo Vai Gabbo Oh no mi ha preso un cane Io invece sono avanti i chilometri Eh adesso ti raggiungo Weee Ooooooooo Sss Eeeh vabbè Splash Eh ma ci hanno raidato Oh Silverwoods grazie per il raid Oh shit dammit Oh Oh I cani li hanno quasi presi Non Voi Au Voi ciccioni Che sto sbrillocco Sbrillocco Oh 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 questo è il rapporto, puoi prenderlo o non capisci? ciao Silverwood dice che non è troppo rischio, il rischio dovrebbe arrivare questo non va succedere ma non va succedere Harvi, ho bisogno di parlare con te, aspettate capisci? è importante, devi ascoltare questo guarda, prendono la gemma e se ne vanno Leo fuori dalla presenza cosa? ho appena avuto la chiamata non è vero che essere morto? un ragazzo è morto, si è morto dai guardi buono per niente, pezzo di s***** scusate boss guarda Sean, devi trovare lui, ok? si, ma non mi sono sicuro, gli uomini che abbiamo adesso non è il mio problema, devi solo trovare loro hai capito? non dico a s***** di come solo farlo succedere sì boss era un ruotino, Gabbo si no deal ok, no deal eeeh con la pistola d'oro, quanto ce l'hai minuscolo pensa che ha pure un hammer in garage guarda, chissà come mai la cosa non mi stupisce ah che bello l'autunno le foglie gli uccelli tanti uccelli la desert eagle dorata è un po' troppo eeeh ok anche a te l'ha fatto? sì ma e perché sono le 11 ed è ora di staccarla live? ma questo è che credo di sì a questo punto cazzo di yee games vabbè ciao 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 ciao